Secondo la medicina tradizionale cinese, la primavera come stagione è legata alla fase legno e gli organi coinvolti in questa fase sono il fegato e la cistiferia. Per aiutare il funzionamento di questi organi, noi di Alchimia Benuati proponiamo Ye Curben che lavora proprio sul facilitare le funzioni epatobiliari e lavora sulle funzioni quindi depurative perché il fegato è un nostro grande organo emulatorio e grande trasformatore, aiuta le funzioni anche intestinali e quindi il drenaggio dei nostri liquidi, regola la sudorazione e favorisce la funzione digestiva. La posologia, l'assunzione consigliata da noi di Alchimia Benuati è di 30 gocce per tre volte al giorno in un pochino di acqua tiepida tenuta il più possibile sotto la lingua.